Qui dal presepe vivente di Chiedi siamo in compagnia della ragazza che interpreta la figura di Maria qui al presepe vivente presso la Civitella, edizione 2018. Ciao, come ti chiami? Parla alle tavoci, come ti chiami? Si chiama Gioia. Quanti anni hai? 27 anni. Dove provieni? Sì, dalla Nigeria. Sei cristiana e credi in Gesù? Da quanti anni sei in Italia? Sei cristiana e credi in Gesù? Da dieci anni. Dieci anni che sei in Italia? Dieci anni in Italia. Come hai voluto interpretare questa figura di Maria e come hai deciso di interpretarla? Luca. Quindi Luca ti ha detto di interpretare questa figura. Questa è quella che sei una cristiana. Sei cristiana cattolica e insieme a tua figlia e insieme a San Giuseppe che adesso conosceremo. Ciao, come ti chiami? Emanuele. Si chiama Emanuele e avvicina devi fare anche le parole più forte. Quanti anni hai? 40 anni. Di dove sei originario? Sono originario del Piemonte. Del Piemonte. Da quanti anni sei a Chieti? Adesso è un anno che sono a Chieti, in questa struttura Papa Giovanni, come volontario. Questo condividere la vita con gli ultimi mi sta veramente donando tanto. È molto più quello che ricevo di quello che do. Una domanda la farà tutte e due. Cosa vi aspettate da questa esperienza del presepio vivente? Prima la ragazza che fa Maria e poi San Giuseppe. Cosa ti aspetta da questa esperienza? Una esperienza buona. Quindi un'esperienza buona, un'esperienza positiva? Un'esperienza che fortifica lo spirito? Sì, sì. Fortifica lo spirito. E tu? Io, quando mi è stato chiesto, non gli ho dato il peso che invece gli sto dando in questo momento. Nel senso che, se rivedo la mia vita, adesso trovarmi qua invece a fare il personaggio di Giuseppe. Non è fitto amore. Non mi sento neanche all'altezza, ma per me è veramente un orgoglio di essere qua fatto di un presepe, di questa valenza, bello così, di trovare a me a fianco di quello che deve essere Gesù. Mi rendo molto orgoglioso. Conoscevi l'Abruzzo? Conoscevi Chieti prima? No, l'ho conosciuta adesso, mi piace molto, devo dire. Quindi ti trovi bene qui in Abruzzo? Sì, mi trovo molto bene. Come ti trovi qui a Chieti? Mi piace. Ti piace? Quanto tempo vieni qui alla Capanna di Bello? Tre anni. Tre anni? No, tutto l'anno e... Otto, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori, ai teatini che ci ascoltano? Agli abitanti della città che ci ascoltano? Sì. Cosa vorresti dire a loro? Quals'uno? Come le stacchite? Come le stacchite? Sì, però mi piace. Di una vita tranquilla faccio qui a Chieti? Tranquilla, anche qua. Fa bene per me. Ti trovi bene qui a Chieti? Lavoro anche qui a Chieti? Lavoro anche qui a Chieti? Sì, sì. Che fai? Di che ti occupi? Lavoro come badante. Come badante questi lavori? Ti ringraziamo. Grazie. Salutiamo anche la bambina. A voi ascoltatori, buon abbefano e buon presso di vivente se venite a vederlo. Grazie a tutti.